Questo indica che sei in via Vittorio Veneto 9 e stai per andare alla fermata di via Moro Poi possiamo valutare se ingrandire con le scritte o meno Però insomma tanto c'è Questa ha caricato dei carni Ok Non faccio nulla perché salire L'appoggio che mi dice carnet validazione Ok Questa è la famosa validazione Che è quella che viene richiesta anche per l'abbonamento Anche per l'abbonamento Tu vedi questa bella I di informazioni Se tu la premi e ti appoggi sopra il tuo viaggio Ti dice è un carnet Te lo legge e ti dice anche quante corse hai fatto finora Quando ti scade il tessero norma 225 Ok E questo qua che è stato convalidato alle 10.06 Sul veicolo 5143 Per l'abbonamento a sinistra serve per aggiungere degli eventuali altri passeggeri all'interno di un mese da 10.06 Ovviamente anche qui lo devo riconvalidare Esattamente come l'abbonamento Sì sì Cioè scendere e sale da un altro Poi da poche settimane sarà possibile Con la carta di credito questa remiglia Semplicemente appoggiando non è stato fatto niente C'è nessuno tra i suoni Ok su tutte le porte così almeno Ok I numeri caratterici tradizionali sono due a questo Stato